No, raga, voi mi dovete spiegare una cosa, cioè TikTok mi manda le notifiche by type per incontrare il tuo amore, cioè ora io mi chiedo, scusate lo sfogo, ma che problemi hai tu TikTok che mi mandi le notifiche di andare in là per trovare il mio vero amore quando, allora già da vicino hai difficoltà? Premetto, io per fortuna il compagno ce l'ho e lo adoro, ma per tutti quanti, ok, già è difficile da vicino che tu incontri gente che non merita la 104, ok, e ce l'hai d'accordo. Uno, figurati se io mi metto su TikTok, cioè mi sembra come l'app di dating di Facebook, che non so se ce l'ha ancora tra l'altro, ma c'è un periodo che Facebook sparmava l'app di dating che aveva fatto per farti incontrare la tua anima gemella. Ora, io mi dico, se già normalmente noi abbiamo difficoltà a trovarli da vicino, ma te pare che io mi metto proprio su TikTok a cercarmi l'anima gemella? Ok, finché ci si incontra per caso anche sui social e scatta la scintilla ci può stare, ok, ma non è che lo programmi di trovartelo. Ora, io dico a questi social come Facebook, ma anche e soprattutto in questo caso TikTok, ma vi siete fatti un giro sui vostri stessi social per vedere l'utente medio che ci gira su. Perché salvando la pace di pochi, soprattutto qui su TikTok, ma a quello che sto vedendo anche Facebook non scherza, cioè qui c'è gente da ricovero, da TSO mentale, ma te pare che io mi metto a cercare su TikTok la mia anima gemella? Cioè, seriamente mi fate così pazza e malata? Se avessete fatti un giro sui vostri social a vedere l'utente medio che lo frequenta? Perché in base a come l'avete creato, soprattutto su TikTok, l'utenza media che c'è, ripeto, salvando la pace di poche eccezioni, non è così tanto normale, non è così tanto intelligente, acculturata e che fa funzionare i neuroni, le celluline grigie, come diceva Poirot. Ora, secondo voi, ma una persona normale che già di suo ha mille complessi e mille problematiche, se mette davvero a cercare l'anima gemella? Più che l'anima gemella, mi vede a dire su TikTok, su Facebook o con questo tipo di app, fai più che altro la cernita delle figurine speciali da TSO, da ricovero. Fatemi sapere se anche a voi stanno arrivando questo tipo di notifiche, perché una è proprio sull'amore, c'è tanto sull'amore nello specifico, un'altra dice, vai live, trova amici e amore, una cosa del genere. Fatemi sapere se anche a voi sta succedendo questa cosa, cosa ne pensate, perché io ho brividi assoluti. Vi do un abbraccio, ci vediamo presto, ciao ragazzi!